Buongiorno, ben trovati a tutti. Buongiorno a lei dottoressa Palumbo. Allora io ho già fatto cenno a quello che sarà il delicato argomento che andremo ad affrontare insieme. Direi da una parte per fortuna in alcuni centri dove sono in cura ai pazienti oncologici si comincia a vedere la figura dello psicologo, dello psico-oncologo, in altri però tuttavia ancora no. Però è fondamentale invece che questo sostegno venga assicurato. Che venga assicurato però io sottolineo, dottoressa, non so se l'hai d'accordo con me, dal momento della diagnosi? Assolutamente sì. Nei grandi ospedali italiani si può fare immediatamente richiesta di uno psico-oncologo ma sappiamo che le figure degli psicologi e anche degli psico-oncologi non sono scontate anche nelle grandi aziende ospedaliere per cui talvolta, almeno nella prima fase iniziale, bisogna rivolgersi o a delle associazioni che riguardano proprio la psico-oncologia dove ci si iscrive con pochissimi soldi e si ha un'assistenza importante o altrimenti rivolgersi privatamente ad un psico-oncologo. È fondamentale da subito sia per il paziente che ha ricevuto la diagnosi sia per i caregiver, per le famiglie perché insomma una diagnosi di tumore, una diagnosi oncologica è qualcosa che ti stravolge, è un colpo al cuore è qualcosa che immediatamente ti abbaglia in negativo. Poi oggi grazie alla ricerca, grazie ai protocolli avanzati ci sono stati fatti moltissimi passi avanti e ci sono dei tumori anche importanti che sono trattabilissimi con degli esiti anche molto favorevoli e poi invece ci sono dei tumori parliamo per esempio del tumore al pancreas che è ancora un fanalino di coda che è una diagnosi che terrorizza ma comunque rivolgersi dallo psico-oncologo è sempre da subito un modo per affrontare per capire, per rimettere in sesto il pensiero che è completamente sbalestrato per incominciare a darsi delle regole giuste perché anche nel protocollo oncologico durante la chemioterapia o tutti gli altri trattamenti avere mente sana in corpo sano funge diceva il grande professor Veronesi che a parte i protocolli farmaceutici fondamentali però la mente è fondamentale per il trattamento oncologico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti